Vi siete mai chiesti cosa succede a un autoveicolo quando finisce la sua vita su strada. Ci sono due possibilità, questa o questa. Noi di Pollini Autodemolizioni conosciamo bene il valore del rispetto ambientale e per questo abbiamo scelto di svolgere l'attività di demolizione e rottamazione dei veicoli con consapevolezza e professionalità. Sono quasi 30 anni che operiamo in questo settore e i continui investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso di mantenere standard qualitativi elevati che offrono garanzie non solo per la soddisfazione dei nostri clienti ma anche per la tutela dell'ambiente. Non a caso facciamo parte della rete di centri di raccolta autorizzati allo smaltimento dei veicoli organizzata da numerose case automobilistiche. Ci rivolgiamo sia ad aziende che a privati facendoci carico del loro veicolo da demolire che per legge è considerato rifiuto pericoloso. Ma quali sono le procedure che seguiamo? Per prima cosa ritiriamo il veicolo con bisarca e mezzi autorizzati. Ad ogni veicolo preso in consegna viene assegnato un codice a barre. Questo permette di mantenere la costante tracciabilità dei componenti recuperati in ogni stadio del processo di demolizione. Pollini Autodemolizioni sa che lo smaltimento può essere un processo dannoso per l'ambiente ma sa anche che con i dovuti criteri può trasformarsi in una risorsa. Quando prendiamo in carico un autoveicolo valutiamo ogni componente e recuperiamo tutto ciò che ha valore commerciale e risulta in buono stato di conservazione. È così che portiere, parabrezza, gomme, finestrini, parti meccaniche e altro entrano nella filiera del reimpiego. Una volta immagazzinati nei nostri depositi trovano nuova vita come pezzi di ricavo. Provate a pensare quanto tutto questo incida favorevolmente sull'impatto ambientale. Così facendo si evita di produrre inutilmente numerosi pezzi sostitutivi che hanno un notevole costo ambientale di produzione e che a loro volta dovranno poi essere smaltiti. La stessa direttiva 2000-53 della Comunità Europea pone l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti derivanti da veicoli. Tutto ciò che non è valutato in perfetto stato di conservazione viene trattato dai nostri operatori specializzati che dividono i componenti avviando la fase di riciclo dei materiali. I pneumatici separati dai cerchi vengono raccolti in ceste e lo stesso avviene per le batterie. Le nostre isole di smontaggio sono dotate di un sistema per la raccolta dei liquidi e delle parti pericolose. I macchinari estraggono i residui contenuti nel veicolo per poi trasferirli in appositi contenitori destinati alla rigenerazione o allo smaltimento in impianti autorizzati. Oppure vengono reimpiegati come nel caso del liquido dei tergi cristalli e del gas per il climatizzatore. I vetri vengono successivamente frantumati con il sistema della pressa verticale e recuperati in ceste destinate al riciclo del materiale. Immaginate quante sostanze inquinanti restano in un veicolo che viene demolito senza queste attenzioni. Una volta effettuate le lavorazioni alla postazione di smaltimento e recupero restano dei passaggi molto importanti da completare. Paraurti, sedili e cruscotti non destinati al reimpiego vengono separati dal veicolo con l'utilizzo di mezzi meccanici. Successivamente i nostri tecnici, consapevoli che il motore con tutte le sue componenti interne rappresenta un fattore di grande impatto ambientale, eseguono quello che in gergo viene definito strappo. Una volta privati i veicoli delle parti più pregiate destinate al riciclo, il materiale ferroso viene compattato nella pressa. Il trituratore invece viene impiegato per la separazione dei materiali, contribuendo così a una maggiore valorizzazione delle parti nell'avvio al riciclo. Pensate che questo macchinaio viene addirittura utilizzato per smaltire grandi mezzi come gli autobus. A questo punto il veicolo si può considerare demolito. Ma che ne è di tutti quei componenti che stiviamo nei nostri magazzini? Semplice. Pollini Autodemolizioni si rivolge al pubblico, offrendo la possibilità di acquistare numerosi ricambi per una vasta gamma di veicoli. I clienti possono recarsi presso le nostre sedi e in pochi istanti il prodotto viene reperito grazie al sistema di tracciabilità e all'organizzazione in database. In alternativa si può utilizzare i servizi online compilando il modulo di richiesta. L'impegno aziendale verso l'ambiente si manifesta in ogni fase, quindi anche nelle spedizioni che avvengono su tutto il territorio italiano. Infatti i prodotti sono imballati con materiali di recupero come vecchi pallet o imbottiture di sedi. Tutte le procedure e le costanti implementazioni tecnologiche apportate grazie al sistema di gestione ambientale permettono alla nostra azienda di mantenere la promessa rivolta alla salvaguardia dell'ambiente. Saper valorizzare significa saper guardare avanti e questo Pollini Autodemolizioni lo sa. Pensate che con la plastica riciclata da Pollini in un anno si possono produrre più di 130.000 sedi. Il vetro che ricicliamo in un anno permette di imbottigliare più di un milione di bottiglie di vino e il materiale ferroso recuperato da un'automobile da rottamare permette di produrne una nuova. Ecco perché noi di Pollini rottamiamo per l'ambiente. Grazie. 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 Grazie.